Ma non sia Catalfo che è la prima firmataria della legge sul reddito di cittadinanza che è in discussione attualmente al Senato. Non sia Catalfo e Luigi Di Mai. Buonasera, grazie a tutti di essere qui. Grazie a tutti. La mafia non si nutre dei politici corrotti. La mafia è i politici corrotti che con le vostre tasse truccano gare d'appalto per trasferire fondi pubblici ad organizzazioni criminali. Questo è il sistema mafioso. E quando pensiamo alla mafia pensiamo prima di tutto alla politica corrotta di mafia capitale che ha colpito tutti i partiti, tutte le forze politiche tranne il Movimento 5 Stelle. Ricordiamocelo sempre. Ma quando pensiamo a questo sistema mafioso dobbiamo pensare a qual è la cosa di cui si nutre. Questo sistema sfrutta il dramma di oltre 10 milioni di italiani di cui sei in povertà assoluta. Quel dramma è la miseria. Uno Stato coraggioso che vuole combattere i sistemi mafiosi deve avere il coraggio di dichiarare illegale la povertà e per farlo deve utilizzare degli strumenti che esistono in tutto il mondo, tra cui il reddito di cittadinanza. Grazie.